L'anno scolastico è cominciato e ogni mattina Anna, con la sua sedia a rotelle, viene caricata a braccia dai genitori per superare rampa di scale e accedere alla sua aula scolastica della primaria Collodi di via Ugolini. Una barriera architettonica che non si sta battendo e che ha chiamato in piazza i compagni di classe di Anna con i loro genitori per manifestare il dissenso verso la mancanza di una rampa per disabili nell'istituto e la bocciatura dell'ipotesi di costruirne una sull'ingresso principale. Noi attualmente la portiamo in braccio per poterla fare entrare insieme ai suoi compagni, altrimenti saremmo costretti a entrare da un ingresso secondario che è su un'altra via e quindi Anna dovrebbe entrare da sola. Abbiamo detto no a questa cosa in maniera netta e quindi adesso siamo costretti a portarla sia lei che la sua sedia a rotelle in braccio. Il comune dal canto suo al posto di una rampa giudicata incompatibile con gli spazi di ingresso della Collodi ha previsto la realizzazione di uno spazio calmo, vale a dire una stanza d'emergenza per le persone con disabilità che non risolve però il problema dell'inclusione come sottolineato anche dai consiglieri comunali d'opposizione che hanno solidarizzato con la manifestazione di piazza. Lo spazio calmo che è garantito per gli incendi in alcuni casi non è assolutamente tutelato in caso di terremoto, siamo alla follia se in un terremoto facciamo entrare una bambina in una stanza e la guidiamo lì in attesa che arrivano i soccorsi. Per quanto riguarda via Fermi il nostro è un no secco, se avessimo voluto andare in via Fermi ne avremmo avuto la possibilità all'iscrizione, non abbiamo voluto andare lì e non è assolutamente nostra intenzione spostarci da quella scuola. Se decideremo di spostarci decideremo noi in che scuola andare.